5. Questo materasso Memory Foam con base Water Foam è la soluzione perfetta per chi cerca un sonno profondo e ristoratore. Grazie alla sua struttura a 4 strati e allo spessore di 26 cm, offre un comfort stabile e duraturo nel tempo. La presenza di aloe vera nell'anima interna, insieme alla lana Merinos e al cotone nell'imbottitura, rendono questo materasso completamente anallergico e adatto anche per chi soffre di sensibilità cutanee. Inoltre, l'aloe vera offre benefici per la salute come l'idratazione dei tessuti, il rafforzamento del sistema immunitario e la calma del sistema nervoso. Un prodotto di qualità che garantisce un sonno rigenerante e una migliore qualità della vita. Trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione. Numero 4. Questo materasso è l'ideale per chi cerca un supporto confortevole e rilassante durante il sonno. Grazie alla combinazione dei diversi strati, garantisce un sostegno perfetto per il corpo, adattandosi alle sue forme e alleviando i punti di pressione. Il primo strato in Memory Foam offre un effetto massaggiante che favorisce il rilassamento dei muscoli e una migliore circolazione sanguigna. Inoltre, grazie alla sua qualità termosensibile, riesce a mantenere una temperatura ideale durante tutta la notte. Il secondo strato in Water Foam, con la sua struttura portante rettilinea, assicura un corretto allineamento del corpo e una distribuzione uniforme del peso. Trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video. Numero 3. Questo materasso Memory Foam è la soluzione ideale per chi cerca il massimo comfort durante il riposo. La sua struttura interna è composta da uno strato di Water Foam elastico e uno strato di Water Memory Foam ad elevata traspirazione e freschezza. Grazie al profilo ondulato di quest'ultimo, il materasso garantisce una microventilazione efficace, che permette un continuo riciclo dell'aria e dell'umidità. Il rivestimento esterno è pensato per garantire un sonno sano e riposante, in quanto è antiacaro, analergico e trattato con aloe. Inoltre, è possibile rimuovere il rivestimento e lavarlo parzialmente in lavatrice a 40 gradi centigradi per una maggior igiene. Trovi il link di questo articolo in descrizione. Numero 2. Questo materasso Memory Foam è la scelta perfetta per chi cerca comfort e supporto durante il sonno. Grazie alla sua struttura composta da quattro lastre, offre una perfetta adattabilità alla morfologia del corpo, garantendo un riposo rilassante e confortevole. La lastra superiore, composta da uno strato di 5 cm di Memory Fresh, dona una piacevole sensazione di freschezza. Gli altri strati, invece, sono stati studiati per garantire una rigidità media e per favorire un riposo naturale e ottimale. Non solo un materasso comodo, ma anche di qualità, grazie ai materiali utilizzati che assicurano durata e resistenza nel tempo. In descrizione trovi il link di questo prodotto. Numero 1. Questo materasso Memory Foam è una vera e propria esperienza di comfort per il sonno. Con i suoi 25 cm di altezza, un rivestimento esterno in aloe vera e una fascia perimetrale 3DR garantisce traspirabilità e scambio termico ottimali. Le lastre a diversa densità forniscono un sostegno confortevole e il rivestimento è antiacaro, analergico e antistatico. Grazie alle maniglie di presa, è facile da trasportare e posizionare. Il materasso è composto da uno portante da 19 cm di water foam e uno strato superiore di 5 cm di memory foam, perfetto per adattarsi alla forma del corpo e offrire un sostegno uniforme. Puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione. Grazie a tutti.